Maigret aveva telefonato a Moulin per avere un tassi. E fu stupito di vederlo arrivare in meno di dieci minuti. Si diresse dunque verso la porta, ma fu bloccato dall'avvocato che stava finendo il caffè. Guardi che è il nostro, ma se vuole un passaggio... No, grazie. Jean-Metallier e l'avvocato partirono per primi a bordo di una grande auto che aveva ancora lo stemma del vecchio proprietario. Un quarto d'ora dopo se ne andò anche Maigret. Lungo il percorso, chiacchierando con l'autista, si mise a osservare il paesaggio. Lo scenario era monotono. Una fila di pioppi ai due lati della strada. E poi terre arate a perdita d'occhio, interrotte qua e là, dal rettangolo di un boschetto, dall'occhio verdastro di uno stagno. Le abitazioni erano per lo più casupole, e c'era una ragione precisa. Non esistevano piccole proprietà, ma solo grandi possedimenti, uno dei quali, quello del duca di Tee, comprendeva tre paesi. Le terre dei Sanfiacre, prima che i vasti appezzamenti venissero messi in vendita, si estendevano su duemila ettari. Unico mezzo di trasporto, un vecchio autobus che un contadino del luogo aveva comprato d'occasione a Parigi, e che faceva servizio una sola volta al giorno, tra Moulin e Sanfiacre. «Più campagna di così», disse l'autista del tassi. «E adesso è ancora niente, vedesse in pieno inverno». Quando giunsero nella strada principale di Moulin, l'orologio della chiesa di Sanfiacre segnava le due e mezzo. Maigret si fece lasciare davanti al Camp Tuar de Compte. Nel momento in cui, dopo aver pagato la corsa, si voltava per entrare nella banca, ne vide uscire una donna che teneva per mano un bambino. Per non farsi riconoscere, il commissario si immerse nella contemplazione di una vetrina. La donna era una contadina con il vestito della domenica, un cappellino in precario equilibrio sulla testa e la vita strizzata dal corsetto. Camminava piena di sussiego, trascinandosi dietro il ragazzo, con la stessa attenzione che avrebbe riservato a un pacco. Era la madre di Ernest, il chiarichetto dei capelli rossi. La strada era piena di animazione. Ernest avrebbe voluto fermarsi davanti alle vetrine, ma era risucchiato dalla scia della gonna nera. A un certo punto la donna si chinò per dirgli qualcosa e, con l'aria di chi tiene fede a una promessa, entrò insieme a lui in un negozio di giocattoli. Maigret non osava avvicinarsi troppo e del resto non ce ne fu bisogno. I fischi che provenivano dal negozio erano abbastanza eloquenti. Il chiarichetto stava provando l'intero campionario di fischietti e, alla fine, ne scelse uno da boy scout. Quando uscì, lo portava appeso al collo, ma la madre continuava a tirarselo dietro, impedendogli di provarlo per strada. La sede del Comptoir de Compte era la tipica succursale di provincia, con un lungo bancone di quercia e cinque impiegati chini sulle scrivanie. Maigret si diresse verso lo sportello con la scritta «Conti correnti» e l'addetto si alzò premurosamente. Maigret intendeva chiedere informazioni sull'esatta consistenza del patrimonio dei San Fiacre e, in particolare, delle operazioni delle ultime settimane, anzi, degli ultimi giorni, nella speranza di ricavarne indicazioni utili all'inchiesta. Ma rimase un istante in silenzio a fissare il giovane che se ne stava in piedi dietro al bancone senza dare segni di impazienza. «Immagino che lei sia Emile Gautier!» Lo aveva visto passare due volte in moto senza mai riuscire a coglierne i lineamenti, ma l'impressionante somiglianza con l'intendente del castello non lasciava dubbi. E non era tanto una questione di particolari quanto di razza. I lineamenti marcati e l'ossatura robusta tradivano l'origine contadina. Il grado di evoluzione era lo stesso, o quasi. Emile aveva una pelle più curata di quella dei contadini, certo, lo sguardo intelligente e un piglio da uomo che ha studiato. Ma non era ancora uno di città. I capelli, nonostante la brillantina, erano ribelli e stavano ritti in cima alla testa, e le guance rosee gli conferivano il tipico aspetto del bullo di paese rasato di fresco la domenica mattina. «Sì, sono io!» Nessun segno d'emozione. Megaré non aveva il minimo dubbio che fosse un impiegato modello. Il direttore doveva avere in lui la massima fiducia e lo avrebbe ben presto ricompensato con una promozione. Il vestito nero era confezionato su misura, ma da un sarto di paese e in un tessuto indistruttibile. Suo padre portava dei solini di celluloide, lui invece dei colletti morbidi, ma la cravatta era ancora di quelle con l'elastico. «Mi riconosce?» «No, ma penso che sia della polizia». «Avrei bisogno di qualche informazione sul conto dei San Fiacre». «Non c'è alcun problema. Sono io che mi occupo di tutti i conti correnti». Sicuramente era gentile e compito. A scuola, con ogni probabilità, gli insegnanti avevano un debole per lui. «Mi porti il conto dei San Fiacre?» disse a un'impiegata seduta dietro di lui e diede una scorsa a un foglio giallo di grandi dimensioni. «E che cosa le serve esattamente? Un riepilogo, l'ammontare del saldo o la situazione generale?» «Era preciso, non c'è che dire». «La situazione generale com'è? Positiva?» «Le spiagge, se ci mettiamo là, potrebbero sentirci». Essi trasferirono in fondo al locale, restando però ciascuno da un lato del bancone di querce. «Mio padre le avrà sicuramente detto che la contessa era molto disordinata. Ho dovuto bloccare un non so quante volte degli assegni scoperti. C'è da dire che la contessa non lo sapeva. Firmava assegni senza minimamente preoccuparsi della situazione del suo conto. Poi, quando le telefonavo per avvertirla, era presa dal panico. Anche stamattina hanno cercato di incassare tre assegni sbarrati e ho dovuto respingerli. Ho l'ordine di non pagare nulla prima che...» «Hanno perso tutto». «Non proprio. Tre poderi su cinque sono venduti, gli altri due ipotecati, come il castello del resto. La contessa aveva un appartamento a Parigi, il che le garantiva una piccola rendita, ma quando trasferiva al figlio quaranta o cinquantamila franchi in un colpo solo, beh, è chiaro che i conti non tornavano più. Io ho sempre fatto del mio meglio. Cercavo di ritardare per quanto possibile i pagamenti. Mio padre...» «Sì, lo so, ha anticipato del danaro». «Non so che altro dirle. Attualmente il saldo attivo è esattamente di settecentosettantacinque franchi, ma restano da pagare le imposte fondiarie dell'anno scorso e la settimana scorsa c'è stata la prima ingiunzione dell'ufficiale giudiziario». «Jean-Metallier è al corrente?» «Di tutto. E forse non è solo al corrente». «Che intende dire?» «Niente. Crede che sia uno con i piedi per terra?» Ma Emile Gautier, per discrezione, evitò di rispondere. «Sono queste le informazioni che le servivano?» «Qualcun altro di San Fiacra ha un conto qui?» «No». «E nessuno è venuto oggi per fare delle operazioni bancarie, ad esempio, per riscuotere un assegno?» «Nessuno». «E lei è sempre rimasto allo sportello?» «Sempre». Nessun segno d'emozione. Continuava a recitare la sua parte di impiegato modello che risponde in maniera esauriente alle domande di un ufficiale di polizia. «Vuole vedere il direttore? Dubito però che possa dirle di più». Si accendevano le prime luci. Sulla strada principale l'animazione ricordava quella di una grande città e lunghe file di automobili sostavano davanti ai caffè. Passò un corteo. Due cammelli e un elefantino portavano striscioni pubblicitari di un circo che aveva montato il suo tendone nella Place La Victoire. In un negozio di alimentari Megret vide la madre di Ernest che sempre tenendo per mano il ragazzo comprava scatolame. Un po' più in là quasi urtò Metaier e il suo avvocato che discutendo camminavano con l'aria di chi non ha tempo da perdere. L'avvocato stava dicendo «Devono per forza bloccarlo». Non si accorsero del commissario e proseguirono in direzione del Comptoir des Comptes. Nelle cittadine come Mulan con tutta l'attività concentrata in una strada lunga non più di 500 metri è praticamente impossibile non incontrarsi una decina di volte al giorno. Megret andò alla tipografia del giornal de Mulan. Gli uffici davano sulla strada vetrine moderne tappezzate di fotografie e ritaglie di giornale con le ultime notizie scritte a matita blu su lunghe strisce di carta. Manciuria un comunicato dell'agenzia Havas segnala che ma per raggiungere la tipografia occorreva imboccare un vicolo buio guidati solo dal frastuono delle rotative. In uno squallido laboratorio degli uomini in camice lavoravano davanti ad alti tavoli di marmo mentre in fondo al locale al di là di una vetrata le due linotip ticchettavano come mitragliatrici. Per favore chi è il capo qui? il rombo delle macchine costringeva letteralmente a urlare e l'odore di inchiostro prendeva la gola. Un ometto in camice blu che stava allineando delle righe di piombo in una forma accostò la mano all'orecchio a mo' di cornetto. Lei è il capo? No l'impaginatore! Maigret estrasse dal portafoglio il testo che aveva ucciso la contessa di Sanfiacre e l'ometto sistemandosi sul naso degli occhiali tondi con la montatura d'acciaio lo guardò con aria interrogativa. Lo avete stampato voi? Come dice? Ogni tanto qualcuno passava di corsa con l'immano intere pile di giornali. Le ho chiesto se l'avete stampato voi. Venga con me! Nel cortile la situazione migliorò. Faceva freddo ma almeno si riusciva a parlare con un tono di voce quasi normale. Che cosa voleva sapere? Riconosce questo carattere? È uno Sheltnam corpo 9. È vostro? È quasi tutte le ninotipa nel Sheltnam. Ci sono altro ninotipa a Mulan? Ah Mulan no ma ce ne sono a Nevera a Bourge a Chateau a Autun a... Non nota niente di strano in questo testo. È stato stampato al torchio hanno voluto far credere che fosse un ritaglio di giornale vero? Una volta hanno chiesto anche a me una cosa del genere per uno scherzo. Sarà stato almeno 15 anni fa all'epoca in cui il giornale veniva ancora composto a mano. E il tipo di carta le dice qualcosa? Quasi tutti i giornali di provincia si servono dello stesso fornitore è carta tedesca. La prego di scusarmi devo chiudere la forma è per l'edizione della Nievre. Conosce Jean Metaillier? Lo metto scrollò alle spalle. Che cosa ne pensa? A sentir lui conosce il mestiere meglio di noi non ha tutte le rotelle a posto. Se la contessa non fosse amica del principale non lo lascerebbero certo trafficare qui in tipografia. Sa usare la Ninotip? Ma così dice. Insomma secondo lei sarebbe in grado di comporre un trafiletto come questo? Con due ore buone a disposizione rifacendo dieci volte ogni riga può darsi. Negli ultimi tempi l'ha mai visto davanti alla Ninotip? E io che ne so va viene rompe le scatole a tutti con i suoi procedimenti di stereotipia. Deve proprio scusarmi il treno non aspetta e non ho ancora chiuso la forma. Non era il caso di insistere. Maigri fu sul punto di tornare dentro ma l'agitazione che regnava nella tipografia lo fece desistere. Quella gente aveva i minuti contati. Tutti correvano e i fattorini precipitandosi verso l'uscita lo urtavano in continuazione. Riuscì comunque a prendere in disparte un apprendista che si stava rotolando una sigaretta. Che fine fanno le righe di piombù usate? Vengono fuse. Ogni quanti giorni? Ogni due giorni. Ecco guardi la fonditrice è là nell'angolo. Faccio attenzione però è calda. Quando uscì Maigri era stanco forse un po' scoraggiato. Ormai faceva buio e il selciato luccicava più del solito per via del freddo. Davanti a un negozio di abbigliamento un commesso con un raffreddore di testa batteva i piedi e arringava i passanti. Un cappotto? Bei tessuti inglesi a partire da 200 franchi. Ingresso libero senza impegno. Più in là davanti al caffè de Paris da dove giungeva lo schiocco delle palle da biliardo Maigri vide l'automobile gialla del conte di Saint-Fiacre. Entrò si guardò intorno e non vedendo il giovane si sedette a un tavolo. Era il locale più elegante di Moulin. Su una pedana tre musicisti accordavano gli strumenti. Nella cabina telefonica qualcuno stava parlando. Una birra ordinò Maigri ma il commissario stava cercando di ascoltare la voce che parlava in cabina ma ogni sforzo fu vano. Saint-Fiacre uscì e la cassiera gli chiese Quante chiamate? Tre. Tutte a Parigi vero? E' sempre all'otto due quattro? Accortosi di Maigret il conte si diresse con disinvoltura verso il suo tavolo e gli si sedette accanto. Non mi aveva detto che veniva Moulin. Le avrei dato un passaggio in macchina? Certo è scoperta e col freddo che fa ha telefonato a Marie Vassiliev. No e non ho motivi per nascondere la verità. Cameriere una birra anche per me anzi no è qualcosa di caldo un grog. Ho telefonato un certo Wolf non lo conosce? Stia pur certo che al chiedesorfevre c'è qualcuno che lo conosce. Diciamo che è un usuraio qualche volta ho fatto ricorso a lui adesso cercavo di... Maigret gli rivolse uno sguardo stupito. Gli ha chiesto del danaro? Sì a qualsiasi condizione e invece ha rifiutato. Non mi guardi in quel modo sa? Questo pomeriggio sono passato alla banca a che ora? Verso le tre proprio mentre ne uscivano il giovanotto che lei conosce e il suo avvocato. Ha cercato di prelevare del denaro? Ci ho provato. Senta non creda che voglia ispirarle pietà. Ci sono persone che soffrono di strani pudori quando si tratta di denaro beh io no eh. Insomma spediti a Parigi i 40.000 franchi e pagato il treno di Maria Vassiliev mi sono rimasto in tasca più o meno 300 franchi. Arrivando qui non potevo certo immaginare ho solo il vestito che porto addosso. A Parigi ho ancora alcune migliaia di franchi di affitto da pagare e la padrona di casa non mi lascerà certo portare via le mie cose. Parlava fissando le palle del biliardo che rotolavano sul panno verde. Quelli che giocavano erano giovani del posto di modesta estrazione che ogni tanto rivolgevano alla tenuta elegante del conte occhiate pieni di invidia. Tutto qua. Il giorno del funerale volevo quantomeno portare il lutto ma in tutta la regione non c'è un solo sarto che mi faccia credito per due giorni. In banca mi hanno risposto che il conto di mia madre è bloccato e che d'altra parte restano poco più di 700 franchi. E sa chi si è preso la briga di darmi questa piacevole notizia? Il figlio del suo intendente. Proprio così. buttò giù un sorso di grog bollente e rimase in silenzio continuando a osservare il biliardo. L'orchestra attaccò un waltzer biennese che stranamente sembrava scandito dal rumore delle palle del biliardo. Faceva caldo benché le lampade fossero accese il caffè era immerso in una luce grigiastra. Era il tipico caffè di provincia unica concessione alla modernità un cartello con la scritta cocktail sei franchi. Maigret fumava lentamente. Anche lui fissava il biliardo illuminato dalla luce violenta degli abagior di cartone verde. Di tanto in tanto la porta si apriva e dopo qualche secondo una folata di aria gelida invadeva il locale. Mettiamoci in fondo. Era la voce dell'avvocato di Bourges passò davanti al tavolo di Maigret seguito da Jean-Métaillet che portava dei guanti di lana bianca. Ma entrambi guardavano diritto davanti a sé e solo una volta seduti si accorsero del commissario e del conte. I due tavoli erano quasi l'uno di fronte all'altro. Metaillet arrossì leggermente e ordinò con voce incerta una cioccolata e San Fiacre si bilò con aria di scherno povera cocca. Una donna che si era seduta a metà strada tra i due tavoli rivolse al cameriere un sorriso che rivelava una lunga consuetudine e mormorò il solito. Le portarono uno scerri lei si incipriò ritoccò il rossetto e sbattendo le ciglia si guardò intorno ancora incerta su chi puntare lo sguardo. Chi sarebbe stata la vittima negre solido e rassicurante o l'avvocato senza dubbio più elegante che già la soppesava con un sorrisino. Vorrà dire che al funerale sarò vestito di grigio mormorò il conte di San Fiacre non posso certo farmi prestare un abito nero dal maggiordomo né indossare il tai del mio povero padre. Tranne l'avvocato che aveva occhi solo per la donna tutti osservavano il biliardo più vicino. Ce n'erano tre due dei quali occupati. Non appena i musicisti concludevano il loro pezzo scrosciavano gli applausi e di colpo si riudiva il tintinio dei bicchieri e dei piattini. Tre porto tre! Ogni tanto la porta si apriva. L'aria fredda entrava e veniva poco a poco dissolta dal calore del locale. Le lampade del terzo biliardo si accesero azionate dalla cassiera che aveva gli interruttori alle spalle. Trenta punti disse una voce e rivolgendosi a un cameriere un bicchiere di acqua minerale con dello sciroppo di lampone. Era Emile Gautier che strofinava meticolosamente con il gesso blu la punta della sua stecca e riportava a zero il segnapunti. Il suo compagno più anziano di una decina d'anni e con i baffi scuri a punta era il vice direttore della banca. Solo al terzo colpo mancato Gautier si accorse di maigret. Lo salutò con un certo imbarazzo poi il gioco lo assorbì a tal punto che non si accorse più di chi gli stava intorno. «Naturalmente se non ha paura del freddo sulla mia macchina un posto c'è» disse Maurice de Sanfiacre «Posso offrirle qualcosa? Non sarà certo un aperitivo a mandarmi in rovina?» «Cameriere?» disse Jean-Metallier a voce alta «Mi chiami il 17 a Bourges» il numero di suo padre. Poco dopo si chiuse nella cabina telefonica. Maigret continuava a fumare. Aveva ordinato un'altra birra e la donna forse perché era il più robusto alla fine aveva messo gli occhi su di lui. Ogni volta che il commissario si girava dalla sua parte gli sorrideva come se fossero stati vecchi amici. Non poteva certo immaginare che lui stava pensando alla vecchia come diceva anche suo figlio che ora era sdraiata sul letto al primo piano laggiù al castello. La vecchia davanti alla quale la gente del villaggio sfilava dandosi di gomito. Ma non era così che la vedeva. La ricordava i tempi in cui al café de Paris non servivano ancora cocktail e davanti all'ingresso non c'erano automobili. La ricordava nel parco del castello alta e flessuosa nobile ed elegante come l'eroina d'un romanzo popolare accanto alla nurse che spingeva la carrozzina. Maigret era solo un bambino e i suoi capelli come quelli di Emile Gautier e come quelli del Rossino se ne stavano ostinatamente ritti in cima alla testa. Oh come aveva invidiato il conte la mattina in cui la coppia era partita per Ex-Leban a bordo d'un'auto una delle prime in quella regione traboccante di pellicce e impregnata di profumo. La veletta le copriva il viso. Il conte aveva dei grandi occhiali la scena faceva pensare a un rapimento eroico e la balia agitava la mano del bimbo in segno di saluto. Adesso aspergevano la vecchia di acqua benedetta e l'odore delle candele aveva invaso la stanza. Tutto preso dalla partita ai mirgotie girava attorno al biliardo si esibiva in colpi estrosi contava sottovoce con aria fiera sette prese di nuovo la mira vinse il vice direttore dei baffi a punta disse in tono agido fantastico al di sopra del panno verde due uomini si osservavano Jean Metaillet che il gioviale avvocato soffocava di chiacchiere e il conte di San Fiacre che fermò il cameriere con un gesto stanco mi porti un altro grog quanto a Maigret pensava ad un fischietto da boy scout un bel fischietto di bronzo come non ne aveva mai avuti di San Fiacre Grazie a tutti